Vale ben 4 punti e non 2 la prossima gara che vedrà l'NPC andare in trasferta a Biella. Per questo, ha dichiarato coach Luciano Nunzi, domenica 14 febbraio dobbiamo affrontare la sfida con la giusta mentalità. La squadra di Carrea in casa ha un rendimento molto diverso rispetto a quello delle trasferte. Vive dell'energia positiva del suo pubblico. È una formazione energica e con carattere, decisamente in salute. Ha infatti vinto le ultime 5 gare su 6. Nel girone di andata abbiamo vinto di un punto, 80-79. Nell'importante trasferta che ci attende, dovremo cercare di limitare al massimo Ferguson e prestare la massima attenzione al gioco. I piemontesi, da parte loro, giocheranno senza All, infortunatosi al ginocchio. Nel quintetto a Maranto Celeste, invece, tornerà finalmente a giocare Mortellaro. Riuscirà la squadra di Peppe Cattani a risalire la classifica lasciando la terz'ultima postazione? È proprio ciò che serve.